Benvenuti, questo è Miss Biancuala, il canale dell'illuminazione. Credere per vedere, dove insegno l'antica saggezza dei maestri ascesi, tutto ciò che riguarda spiritualità, leggi di attrazione, leggi cosmiche e non solo. Non è un caso che sia arrivato a me, assolutamente, è perché ti stai risvegliando e hai bisogno di intraprendere un nuovo cammino, un cammino che ti porterà dentro di te a comprendere il grande potere che risiede in te. Questo canale è strutturato come una scuola, inizia dal primo video nell'agosto del 2019, troverai il link qui sotto nel box informazioni e piano piano risali studiando, apprendendo, comprendendo il grande potere che risiede proprio in te, un potere enorme che ti permetterà di manifestare tutto quello che desideri anche di più. Se hai bisogno di aiuto, ci sono i miei servizi di consulenza unici nel loro genere, i miei corsi, le mie meditazioni personalizzate o anche già preconfezionate. Un'aggiunta unica, lascia che ti guidi nella manifestazione di ciò che desideri, che risvegli in te il tuo grande potere, che restituisca a te il dominio sul tuo regno. Trovi tutte le informazioni necessarie qui sotto nel box informazioni o anche scrollando fra i commenti. E ora ti lascio alla visione del nuovo video. Pace amore ed energia. Ed eccoci qui in un nuovo video. E oggi grazie a un membro del Team Kuala che ci ha mandato un suo racconto, una sua testimonianza, estremamente interessante, quindi ho deciso di farci un video. Mi ha scritto tipo 70 volte, pubblicami in anonimo. Io pubblico sempre tutti in anonimo, ok? Tutte le vostre storie vengono pubblicate in anonimo. Non nomi, cognomi, cioè in anonimo. Quindi non siate ansiosi, non pubblico vostri riferimenti personali come nome, cognome, email e così via. Rimane tutto in form anonima, ok? Allora, andiamo a leggercela. Poi la metto anche su Instagram. Scusate, è il primo mattino. Allora, ciao Miss. Scusate che ho fatto lo screen di me. Cioè, ho fatto lo screen dallo screen del be. Quindi da telefono a telefono l'ho fatto di me. Allora, ciao Miss, ti prego di tenere questa mia email anonima. Tutto nome, cognome, grazie. Però amo il team e voglio contribuire pure io, perché credo che possa essere di aiuto per altri. Se qualcuno è in una condizione come la mia o quasi identica. Io ti avevo contattato per una consulenza e tu mi hai detto, fatti il corso autostima. Hai detto che mi serviva tanto da quello che scrivevo. Da quello che scrivevo, usciva fuori che avevo bisogno. Da quello che scrivevo, usciva fuori che avevo bisogno e che ne avevo bisogno. Sì, perché... no, no, che ne avevo bisogno. Scusate perché l'ho screnciottata di me. E io ammetto ora, stupidamente, ti ho detto no. Grazie, ho lasciato perdere. Ok, allora, qui, quando io vi suggerisco qualcosa, regà, non è perché ci voglio guadagnare sulle cose vostre o altro. Perché ci stanno alcune che ne lo suggerisco, altre che io suggerisco è perché evidentemente nelle mail vedo quello. E ti dico, cioè, ok, vabbè, se vuoi fare la consulenza, soprattutto se si riguarda questioni che hanno a che fare con il mondo del lavoro economico. Cioè, quindi, di guadagno, di soldi o appunto relazionali. Spesso e volentieri, alla base del problema di tutto, ci stai te. Cioè, come c'è spesso e volentieri, cioè, sapete che voi produce della vostra realtà. Quindi se avete un problema con la vostra autostima, che torno a ripetere, molti di voi, ci ho fatto un video, confonde come so bella, so brava, so buona. No, l'autostima è qualcosa di ancora più profondo. Cioè, io la chiamo autostima, ma in realtà è il vostro concetto di voi stessi a livello di valore, a livello di meritocrazia, a livello proprio di capacità, ma anche di diritto, di diritto nel manifestare o non manifestare, perché se è sempre voi che decidete manifestare o non manifestare quello che desiderate. Ecco perché chi fa quel corso, poi, ta, ta, come un frittadone, gli si ribaltano situazioni. Cioè, vede proprio la propria vita sdrodolarsi in una maniera differente, cioè, ma sia a livello di eventi, ma anche di persone, ok? Quindi se io vi suggerisco qualche cosa, è soltanto per, appunto, perché vedo che c'è una mancanza, e, anzi, ti sto anche, tra virgolette, proteggendo, dicendo, cioè, non fa solo questo, perché dopo è una spesa inutile, capite? Quello che vi sto dicendo, cioè, non fa solo questo, perché c'è un problema a fondo, cioè, è come se io vengo e ti dico, c'è una perdita, invece di, eh, c'è da andare a riparare quella tale cosa, dico, tia, guarda, te venni i stracci, metteci i stracci, cioè, la perdita continua a esserci, cioè, comprendete, ok? Ehm, però io, ovviamente, quando voi vedo che è, io non ero in realtà di, no, dai, eh, chiudo lì e basta, c'è la vostra decisione, ciao. Ma ora sono qui, qui, miss, scusa, chi vi giudica? Avevi ragione, il mio ego, io mi ricordo, non è che c'è, cioè, io vedo i trucchetti del vostro ego, cioè, conosco a perfezione l'anatomia dell'ego, quindi so perfettamente quando voi mi portate in avanti il vostro ego di, no, non ne ho bisogno, ok? Avevi ragione, il mio ego non mi faceva vedere quanto disperata fossi, e ora ti racconto. Io ho sempre avuto un desiderio, sposare il ragazzo più bello del mio paese, e ammetto che ho fatto cose di cui non vado fiera, e mi sono così, così per dire, umiliata, e ho battagliato molto le altre. Alla fine lui mi ha sposato, e lì inizia il mio inferno. La felicità è durata a zero, perché di botto sono usciti fuori paure, paure. Vedevo tradimenti ovunque, possibilità di corna ovunque, mi sentivo brutta se paragonata a lui. Mi sembravano tutte nemiche, pronte a portarlo via. Insomma, miss, mi si sono insinuati un casino di dubbi, che non sto qui a dire perché poi ho bisogno di una consulenza. Alla fine ho scoperto per via, che poi ti racconto che lui ha un'altra, anzi più di un'altra. No, lui ha un'altra, anzi più di una. Lui, anzi più di una. Lui perché per lavoro è spesso via fino, fino, scusate regà, perché alcune volte io mi accorgo le mail, le scrivere sotto oggetto. Quindi magari sono scritto un po', allora aspetta. Alla fine ho scoperto per via, che poi ti racconto che lui ha un'altra, anzi più di una. Lui, anzi più di una. Lui perché per lavoro è spesso via, fino a fine settimana. E ora so che le mie paure hanno manifestato tutto, tutto. La mia scarsa autostima ha contribuito al peggio. Eppure io ho capito che volevo lui come trofeo per sentirmi vincente. E mi vergogno tanto, miss. Ti prego di non giudicarmi, ah, io non ve giudico. Ora mi sono accorta di tutto. Ero come non me. E pensare che quando sono arrivata a te all'inizio non ti sopportavo. Beh, non è, è un classicone comunque sì, è il vostro ego. Eppure quando ho chiesto alla consulenza e tu hai detto no, ti devi fare il corso prima, io mi sono detta, mi sa che ce l'avevo preso, questa se la tira. Sì, me la tiro, me la tiro. Oggi non c'è vento, ma me la tiro. Scusami, ti prego, miss, non te giudico perché c'è, c'è, tanti di voi vengono da me e all'inizio tipo, vado in retro, chi vado in retro. Così, è il vostro ego, raga. E spero che tu ora accetti la consulenza mia o bisogno tanto perché ho fatto un casino. E voglio rimediare ai casini fatti. Ora ti scrivo tutto così tu vedi, ti prego, ti prego in anonimo, vabbè, poi dopo c'è tutto il resto delle mail che mi ha scritto per cosa. Ok, allora, cosa è successo qua, raga? Alcune volte il vostro, se superiore, l'universo, ok, che vive in voi, la vostra anima, vedendo quanto voi siete soggiucati al vostro ego e non vedendo una via di uscita per farvi da una risvegliata, vi dà il proverbiale ceffone, ok? Ossia, tutto questo lo fa nel tentativo di svegliarvi dall'ipnosi del vostro ego per farvi accorgere che dovete, ecco appunto, scusate, che dovete cambiare a sua mente, dovete cambiare, aspettate, tolgo audio, che dovete cambiare a sua mente, che dovete cambiare. In questo caso cosa è successo? La persona ha evidentemente grossi, grossi, grossi problemi con il proprio concetto di se valore, autostima, tutta l'immagine interna, esterna, merito, quindi cosa ha fatto, ok? Si è messa, cioè, fatemi una domanda perché alcuni, perché, cioè, vi fissate con certe cose se volete manifestare, cioè, questa persona si è manifestata, attenzione, ho sempre avuto un sogno, c'è scritto questo, no? Allora, aspetta, dai che c'è scritto, ho sempre avuto un sogno, ho sempre avuto un desiderio sposare il ragazzo più bello del mio paese, attenzione, il desiderio non era sposasse, il desiderio non era trovare amore, vero, il desiderio era solo uno, sposava uno bello. Ora, ogni desiderio ha un suo perché, una sua esistenza, ma torna e ripete, guardate qua, questo è già egoico, e già sta a segnalare che c'è un problema. Cioè, perché devo sposare uno bello? Bello, no? Tutti noi vogliamo sposare qualcuno che ci aggradi, logicamente, fisicamente, ma guardate, torna e ripete, cioè, in primis, ognuno lo sposa, torna e ripete, qualcuno che ci aggrada fisicamente, però, qual è la cosa vera più importante, almeno per me, spero anche per voi, che sia una persona di sani principi, che ti ami, che ti stimi, che ci si può costruire insieme, che si può fare un cammino insieme, una persona, insomma, che, ecco, come un puzzle, ci combaci, una persona con cui poter camminare a fianco, una persona con cui poter condividere il quotidiano, cioè, poi se, oh mio Dio, te lo guardo, per ognuno di noi il nostro fidanzato, o la nostra fidanzata è Brad Pitt, o che ne so, Claudia Schiffer, per ognuno di noi, no? no? Ogni figlio, come si dice, no? Vabbè, ogni figlio è bella, ogni scarafone è bella mamma sua, ogni scarafone è bella mamma sua, come dico in Napoletano, ogni scarafone è bella mamma sua, cioè, quindi, è normale, quella riferita al figlio, però, ogni nostro affetto, noi lo guardiamo e pensiamo, oh che è bello, oh che è bella, cioè, io penso che sia una cosa danzana, in una relazione, se te vai a guardar trovi, forse che c'è il problema nella relazione, ok? Ma lei ha detto, voglio il più bello, voglio il più bello, e poi lo scrive pure, mi accorgo che l'ho utilizzato come trofeo, o meglio, probabilmente, anzi, sicuramente, perché poi ce l'ha pure scritto, lei non si sentiva bella, non si sentiva attraente, quindi che cosa fai? Vai a entrare nella mentalità, in questo caso, e dici, se il più bello del paese viene appresso a me, che vuol dire? In automatico la gente dirà, beh, se il più bello va appresso a quella, allora tanto cessa non è, è un bello, nella nostra, purtroppo, stereotipata società, il bello sposa il bello, il bello va col bello, cioè, il bello cerca il bello, guardate il classico emblema, Angelina e Julie e Blue Pete, due bonazzoni che si sono trovati, cioè, due bonazzoni, cioè, quante volte, purtroppo, capita di vedere, specialmente nella questione maschile, cioè, capita di vedere magari l'uomo accompagnato da nonna che per i canoni societari della società egoica non sono, non è bella, c'è, ah ma, nonna, ma si è messa cosa sta questo, ma nonna, non c'è, cioè, comprendete? Quindi lei cosa ha fatto? L'ha veramente utilizzato, si è attratta a sé qualcosa che lì per lì sembrava darle, ha visto regà? Chi è qua la più bella dei reame? Specchia specchia che ha la più bella dei reame? Wow, cioè, però poi, logicamente, gli è esploso tutto, gli è esploso, perché cosa succede? Si è dovuta confrontare con quei, credo, madre, negativi che comunque erano da nessuna parte? E cosa ha fatto? L'ego ha utilizzato a suo favore tutto questo, andando a insinuare, o meglio ancora, andando a aumentare ancora di più tutti quei, credo, negativi che già c'erano là. Lei si è presa, si è manifestata il bonazzo, soltanto perché, non perché voleva amore, perché gli piaceva come persona, probabilmente manco gli piaceva come persona, non gli piace, cioè, probabilmente manco quello, gli manco gli piaceva come, lei voleva soltanto il Brad Pitt della situazione, poi al suo Brad Pitt gli fischiava nelle vecchie, il Brad Pitt della situazione è che andasse ad attestare agli occhi degli altri, agli occhi degli altri, che lei era valida, valida perché sono stata scelta dal bello e il bello non sceglie il brutto. Ricordate come l'ego ci fa veramente fare dei giri infernali, cioè, infernali, non si è manifestata che voleva l'amore, una persona che la facesse sentire, che poi anche lì è sbagliato, perché se una persona, tu stai soltanto sulle spalle come un mendicante di quella persona, se quella persona da un momento all'altro prende e ti molla, tu stai a punto a capo. Ecco perché io vi dico, datevi per primo ciò che volete, che cercate nel prossimo, datevelo nel primo, siete voi a dirvi per primo che vammate, che vi rispettate, che vi volete bene, che vi supportate, in modo che a tavola imbandita, no? È come un invito, le relazioni sono come un invito, ok? Quando voi invitate qualcuno a cena, che fate? Aspettate a tavola a vota di, boh, speriamo che qualcuno porti qualcosa, perché qua la persona o quelle persone che avete invitato potrebbero venire a mani vuote o potrebbero venire con una piantina, che vi fate, vi magnate il figus tutti quanti insieme, figus stufato per tutti, cioè, comprendete? Quindi invece cosa fate? Voi già preparate o ordinate qualche cosa a mangiare, poi chi porta, porta, meglio ancora, però almeno ci sta una cosa di base, ecco la relazione è quello. Se io sto lì a aspettare che lui mi deve far sentire bello o lei che sia, lui o lei che sia mi deve far sentire importante, lui che lei che sia mi deve far sentire amata, lui che lei crea soltanto, metto addosso pressione, perché nel momento che quella persona per qualche suo motivo abbassa la guardia, come si dice, cioè, e quindi magari non ci dà il cento per cento di quello che vogliamo, il cento per cento, ecco che cominciamo a dire, andiamo su, e lì il problema nella sta grande maggioranza dei casi, nelle coppie che schioppano, è proprio questo, perché metto sulle spalle del povero disgraziato, disgraziato di turno, tutti i miei problemi. Io sono buco nero, quindi devi cercare di riempirmi, ma come lo riempi in buco nero, se qualcuno ha studiato un po' astronomia, come lo riempi in buco nero, come lo riempi, capito? Quando invece fate un lavoro su voi stessi, ecco che succede, che chi si è fatto per dire il corso autostima e poi magari si è fatto la consulenza in ambito amore, ecco che poi si è manifestato partner estremamente migliori di quelli precedenti. Perché? Perché loro sono la versione migliore, attraggono una versione migliore, raga, cioè, comprendete? Siete su una vibrazione migliore, è come essere su un canale, sono nel canale di quelli che mi trattano male, adesso io lavoro su me stessa, adesso passo su un altro canale che invece di quelli che mi trattano bene, cioè comprendete? È come compartizzato, ok? È come compartizzato. Quindi questa persona, torno a ripetere, cosa ha fatto? Aveva dei credi su cui non ha lavorato, quindi alcune volte l'universo, ossia il vostro sesso superiore, che ve fa manifestare quello che è, così ci sbattete l'unione. E ecco che ha avuto la svegliuccia, ha avuto la svegliuccia, è tornata da me, è tornata, è tornata da me, si è accorta di tutto questo qua, che avevo ragione, ma avevo ragione perché tornava io, non è... Conosco gli inganni e l'egore, se c'è qualcosa su sta faccia della terra che io forse conosco meglio di me stessa, è proprio l'egore. Fine. So come lavora, so come vi inganna, so quello che vi sussurra, io lo so, lo vedo. Semplice, non c'è nessun mistero, quindi io ho visto il treno dove stava andando, era già deragliato quel treno, in realtà, cioè, fine. Però alcune volte le persone ci devono sbattere il grugno, da soli, ok? Se la persona si è manifestato il tradimento e lui, sì perché regà, ovviamente che si sarà messa a pensare, no? Sono usciti fuori, io mi sento un UCS, questo è bello, un sacco di ragazze belle, lei stessa scrive, che comunque sia, ha fatto molta guerra ai competitor, alla competizione femminile, ha scritto che ha fatto cose di cui non ne va proprio fiera, quindi avrà battagliato, avrà messo gossip, io che cazzo ne so, non me l'ha scritto, però che se va solitamente, insomma, c'è stronza qua, c'è stronza là quando non ci accorgiamo che il problema siamo noi, perché torno a ripetere, nessuno vi ruba niente, voi siete possessori del tutto, ma se voi vi ricordate decidere di essere possessori del tutto, e se no niente, loro siete solo tipo gli accattoni, siete, che andate lì a dire quella è una stronza, quella qui, quella è quell'altro, quella perché, quella e io in un video passato, io ve l'ho detto che avevo queste invidie, anch'io, c'era sempre qualcuno che era più di me, ma non mi accorgerebbe, era colpa sua che mi faceva sentì da meno, non mi accorgevo che ero io da sola che mi faceva sentì da meno, ero io da sola, ero io da sola, senza togliere il fatto che noi veniamo da secoli in cui le donne vengono messe una contro l'altro, c'è sempre quella, guarda quella che è più bella, che ha i capelli più belli, gli occhi più belli, ha bocca più bella, il culo più bello, le zine più belle, cioè, sugli uomini adesso un pochettino si nasce un pochettino, ma non c'è mai stata tanta concorrenza, non è stato insegnato, gli uomini ecco perché riescono a fare anche più gruppo fra loro, perché loro non è stato insegnato come noi nel corso dei millenni, millennia, cioè, Eva contro Eva, cioè, acchiappatevi i capelli e il penomo solo, cioè, capite? Ok? Quindi lei cosa ha fatto? Lei si è manifestata al belloccio che andasse ad attestare, a cercare di mettere una copertura, capito? Cioè, una botta, una gettata di cemento sopra le sue paure, ma in realtà ormai era troppo tardi, cioè, ha amplificato ancora di più, perché una volta che si è trovata sposata, quella stessa si sarà detta, cioè, avrà detto, cioè, le paure saranno uscite fuori? Cioè, tanto, se non le affrontate, se tu te senti in OCS, anche che tu vicino, Brad Pitt, ti guarda mattina sera e pensa, sono donna della mia vita, cioè, tu comunque sia, non ci credi perché, non ci credi, non ci credi perché non fa parte del tuo sistema di credo, te può venire tutto il mondo a dir quanto sei bella, buona e brava, no? Perché se no, raga, guardiamo chi c'ha, ad esempio, i disturbi, purtroppo alimentare, anulessia, bulimia, magari ci sono persone a fianco che stanno lì a dirgli la mattina sera cose belle, cose nutrienti, ma loro cazzo non ci credono perché non fanno parte del loro sistema di credo. Poi venire tutto il mondo a ditte che sei bella, ma se non fa parte del tuo sistema di credo, tu non ci credi perché il tuo ego sarà sempre lì subito a di, sta a mentire, no, vabbè, vuole soltanto essere carina, no, tu stai per carineria, no, non è falsa, comunque sia, tu lo dici per circostanza di cosa, capite? Che cosa vuoi fare il vostro ego? Ecco perché non si esce, nonostante, magari c'hai intorno una famiglia che te ama, amici che te supportano, stanno lì da mattina sera a cercare di dirti cose nutrienti, ma se tu non ci credi perché dentro c'è un mostro che sta lì a dirti da mattina sera, tu stai per carineria? Ah no, tu stai di soltanto per cose, per circostanza? No, ma non gli credi, non è vero, carina, sì, vabbè, ti ho detto solo stavolta così, cioè, capite? Quindi, pure che il vicino c'aveva il manzo di turno, il legora lì a dire, tu sei sposato il bello, ma ora come te lo tieni? Il mondo è pieno di donne più belle di te, più avvenenti di te, viaggia una cifra per lavoro, viaggia, chissà che fa quando è sola a sera, che ne stavo in albergo, il cazzo è stato, cavolo sta, chissà che fa quando è sola, adesso ho parecchi giorni da solo, eh, vabbè, comunque sia molto bello, è molto giovane, molto qui, è molto là, lo sai come sono gli uomini? Poi bisogna anche vedere questa persona, perché comunque stiamo lavorando in questo istante, quindi non mi ha spiegato ancora tutto quanto, bisogna anche vedere, bisogna anche andare a indagare su il suo background, cioè, da che famiglia viene? Famiglie che hanno vissuto tradimenti, quindi hanno passato magari lo stereotipo dell'uomo donnaiolo, che ne so, l'uomo di natura sua che mette le corna, cioè, sono tutti credo che vengono passati poi sui poveri ragazzini, vengono passati di turno, quindi bisogna vedere tutto questo insieme di cose. Dunque, per anche concludere, vi sarà successo di aver manifestato qualche cosa che volevate? E poi vi accorgete che siete cascati dalla padella a braccio, siete andati direttamente a un giro di inferno. Non era come lo volevi, c'è un bellissimo film che ho visto, veramente divertente, con Simon Pegg, poi il vecchio, degli anni 90, non so se era del 98, 99, ora non me lo ricordo come si chiama, aspettate che perché ce l'ho su Prime, come vi dico il titolo, e l'ho visto ed è veramente rispecchia questo, aspettate che me lo cerco che l'ho visto l'altra sera, che l'altra sera, cioè ai 5 del pomeriggio me ne stavo già a letto perché mi doveva arrivare il ciclo, stavo tutta su e giù. Star System, Star System se non ci sei non esisti e è veramente interessante perché praticamente parla di questa storia di Simon Pegg che fa la parte di un giornalista squatternato, un giornalista che vuole assolutamente approdare nell'impero di Hollywood, quindi vuole diventare un famoso paparazzo, cioè di quelli che scrivono i pezzi grossi per le grandi testate e così via. E lui ci crede tantissimo, lavora tantissimo, cioè vive in Inghilterra, vive e conduce questo piccolo giornaletto di gossipaggio, però niente di che finché alla fine gli arriva la grande, a forza ed insiste di credere, gli arriva la grande occasione per una grande testata giornalistica di celebrity per hollywoodiana e si trasferisce a Los Angeles, a hollywood, insomma. E lì finalmente all'inizio c'è un periodo di assestamento divertente, guardate perché è veramente divertente, fra pastrocchi e qua e là, e lo voleva soltanto arrivare e diventare appunto un pezzo grosso, una penna importante di hollywood. lungo la strada vedrete, senza aver racconto tutto quanto, si accorgerà che alla fine non è tutto oro quel che luccica, ovviamente si accorge che quel sogno che aveva era perché nascondeva dei problemi che lui aveva con se stesso, non si sentiva estremamente importante, quindi ha pensato che se qualcuno, se divento importante, se qualcuno mi fa, mi rende, mi rende importante, se qualcuno mi rende importante, mi rende, allora io sarò valido, meritevole e così via. E lui arriva veramente a diventare una penna importante, ma si accorge che poi alla fine non è quello che vuole, ma quello che voleva realmente era appunto sentirsi, sentirsi una persona di valore, una persona amata, ok? Una persona di valore e è bello perché poi c'è anche la questione che lui si innamora di una persona che lavora in questa rivista, in questa redazione e tutti gli dicono è irraggiungibile, la questione che lui prova ovviamente lì per lì fallisce a destra e manca, non se la riesce a manifestare e poi insomma guardatelo raga perché è veramente interessante come film, star system e se non ci sei non esisti e è vero, è vero, molti dei problemi in questa società è proprio il fatto che le persone stanno focalizzate del se non sono famoso, non ho i miei cinque minuti di gloria, quindici minuti di gloria, allora non esisto, in questo diciamo momento storico dove se non c'hai mille e milla follower non sei nessuno, se c'hai due follower non sei nessuno, la gente ci sta poco male, ci sta poco male a vedere che c'ha pochi follower, perché cercano all'esterno un'attestazione del loro valore, che attesti la loro importanza, ma siccome non si sentono importanti quindi manifestano ovviamente quello che si sentono, a meno che come in questo caso, come è successo, per farti capire e cambiare definitivamente io ti faccio deragliare, ti faccio, ti do quello che vuoi, quello che vuoi non lo saprai gestire perché sei piena, piena, zeppa di credo negativo, non lo saprai assolutamente gestire, deraglierai, però una volta che hai deragliato hai finito questa corsa dei pazzi, hai finito questa corsa dove ai comandi ci sta il tuo ego, è finita e adesso vai a raccogliere i cocci, o meglio ricomincia da capo, vedendo ovviamente questa persona è stata, diciamo, non voglio dire fortuna, era il momento che serviva di risvegliarsi, perché purtroppo alcuni invece deragliano col treno e poi ricomincia da capo per rifare e rideragliano altro treno, cioè comprendete cosa fanno, non riescono a uscire fuori dai loop, non riescono a uscire fuori, sono troppo ancora nel sonno egoico e quindi passeranno la loro vita a ripetere sempre e si diranno attraggo sempre le stesse persone, attraggo sempre le stesse cose, cioè finiranno in quella cerchia di persone che ti dice a me mancano sempre le stesse cose, eh ma è colpa dell'altro, eh ma io sembra che attraggo solo sto tipo di uomo, di individuo, di donna, di persona, di situazioni e così via, perché purtroppo sono ancora troppo imbischiate dal sonno egoico e non si accorgono che sono loro a continuare a perpetuare questi loop karmici, invece questa persona è stata fortunata o meglio, cioè era proprio il momento del grosso botto, si è data una risvegliata e ora sta raccominciando a lavorare su se stessa, si è già presa il corso autostima, quindi sta cominciando a lavorare su se stessa e vi dico sempre non siate impazienti con voi stessi, perché spesso e volentieri voi avete molti cocci da dover raccogliere e dover rimettere insieme i pezzetti e il puzzle e decide soprattutto in quello scantinato dove io vi faccio scendere, dove voi dovete scendere, che cosa tenere e cosa andare a fare in chiulo, ok? Era veramente interessante questa letterina, era veramente interessante perché succede, succede come di manifestare cose finalmente che volevamo e poi ci accorgiamo che, oh mio Dio, era meglio se non fossero accadute, magari vogliamo tanto quel posto di lavoro, poi arriviamo in quel posto di lavoro e ci accorgiamo che, oh mio Dio, è deleterio per il nostro benessere psicofisico, o vogliamo tanto trasferirci in un posto, ci andiamo e poi, oh mio Dio, cioè, capite? Ma spesso succede con le relazioni, magari vogliamo quel tipo di persone, quel tipo di cosa e non ci accorgiamo che dietro ci stanno, cioè vogliamo quella cosa solo perché è il nostro ego a volerla, ok? Se venite qua a dirmi, ma come faccio a capire? Comunque nella sezione, ego vs spirito, verso spirito, spero, 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 nella playlist, scusate, troverete i vari video dove comunque ho parlato della distinzione netta fra ego e spirito, comunque in questo caso la persona avrebbe voluto solo una cosa, avrebbe voluto manifestare una persona giusta per lei a livello fisico, a livello psicologico, però soprattutto amore, a me mi importa, l'involucro è importante, sì però è più importante amore, è più importante la compatibilità, è più importante avere una persona a fianco a me solida con cui si possa costruire qualcosa, cioè per me questo è importante, poi io vi garantisco una cosa, che quando una persona incarna certi attributi, che una persona comunque sia giusta per voi, in qualsiasi senso deve essere giusta per voi, è bella, poi è bella, non importa se non c'ha i canoni estetici come volaso, cioè poi è bella, è bella perché incarna ciò che voi amate, ciò che voi trovate bello, io trovo bello ad esempio una persona che sa divertirsi, una persona che rimane giovanile, giovanile dentro, cioè una persona che sa godersi la vita, una persona amorevole, compassionevole, ecco, per me quelle sono cose, quindi sì l'involucro è importante perché è il primo impatto che abbiamo, però dopo è dentro, dopo è dentro, è dentro, è così, io mi ricordo sempre all'università c'era sto ragazzetto che era bruttarello per i canoni estetici, bruttarello, ma vi giuro era di un affascinante tremendo perché quando apriva bocca e leggeva qualche classico greco, latino, io non capisco un cazzo perché non conosco la, cioè non parlo il greco, il latino così via, tranne che vabbè per qualche classica parola, però diciamo non so, legge e perfezione no, assolutamente, come potete posso parlare inglese, cioè no, assolutamente, era affascinante la luce che emanava, perché si vedeva che era la luce data dalla sua passione, lo rendeva meglio di centomila Brad Pitt, lo rendeva, capite? Cioè, meglio di centomila altri bellocci, la passione, la passione te illumina, è così, è così, io so ad esempio di non incarnare i classici canoni estetici di questa società, però tanti di voi mi scrivono e mi dico che sono bella, affascinante, è derivato dal fatto, regà, perché è quello che incarno, perché incarno l'amore, perché incarno la compassione, la luce, queste sono cose che l'anima, è l'ego che va a cercare solo l'estetica, l'effimero, ok? E intorno ai piedi non è da, del tutto da, no, però l'anima guarda per dentro, guarda l'altra anima, ci sono persone belle con cui non vorrei avere che famigliamente mai, mai, emanano buio, emanano dolore, ci sono d'attori che non riesco manco tra poco, cioè, perché si vede che emanano qualcosa di, nonostante siano canonicamente belli, l'anima sa cosa è bello, lo sapete perché il bello è soggettivo, proprio perché viene visto attraverso l'occhio dell'anima e ogni anima è differente, è come un'impronta digitale, è differente, è differente, proprio perché siamo, ognuno di noi, un sistema, un universo differente, meraviglioso, tutto da scoprire, ok? Ringraziamo questa persona che ci ha fatto questa testimonianza e sono sicura che le cose cambieranno, perché cambiano, una volta siete sotto le mie grinfie, devono cambiare per forza, devono una volta essere le mie grinfiette, dovete cambiare per forza perché siete sulla strada giusta, siete, siete ormai, state camminando su una strada di luce e quindi uscirete fuori da quel buio, ok? Ok, e niente, io sono le undici, ok, oggi lo pubblico questo e ora da uscire devo andare a fare la spesa, devo andare a fare queste cose glamour, ossia la spesa, e questo è quanto, io vi ringrazio per avermi seguito fin qui, pollice in su, iscrivetevi al canale e passiamoci in tenere il video.